Io credo che Urus significhi per la nostra economia, ma ovviamente per la nostra azienda, un passo e un dimensionamento totalmente diverso. In questi anni assumeremo oltre 500 persone, parliamo di investimenti che si aggirano oltre al miliardo e parliamo di volumi che vanno a raddoppiare già nel 2019. Quindi un contributo significativo alla crescita economica del nostro Paese. La linea di produzione della nuova Urus rappresenta uno step che guarda avanti nella logica della tradizione dei valori del nostro brand, ma in un contesto totalmente diverso. Quindi una sfida straordinaria che tutte le donne e gli uomini dei Lamborghini vogliono portare a casa nel più breve tempo possibile. L'Aurus è un progetto che garantisce la continuità dei valori e del DNA della Lamborghini. Già nel 1986 con la LM002 la Lamborghini fu la prima azienda automobilistica a costruire il primo SUV. E quindi l'Aurus continua in questa tradizione garantendo dal punto di vista del design, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e dal punto di vista dell'esperienza di guida come passione e divertimento puro, la continuità corretta di una vettura che rimane in ogni modo una super sportiva. La Lamborghini ha sempre caratterizzato i propri prodotti in una maniera diversa rispetto ai nostri concorrenti. Quindi sia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, sia dal punto di vista del design e anche dal punto dell'esperienza di guida, l'Aurus si allinea perfettamente in questo contesto. È chiaro che l'Aurus permetterà ai nostri clienti di utilizzarla tutti i giorni. Ha due anime, un'anima elegante, meno trasgressiva, può essere utilizzata con più persone e un'altra anima invece che permette di sviluppare al massimo la propria esperienza di guida in una logica emozionale che caratterizza sempre l'utilizzo delle nostre macchine. Grazie. Grazie.